Ecco cosa non dovresti fare se un cane vuole attaccarti. Ciao, se non mi conosci mi presento, sono Antonio Puccio, sono un dog trainer e aiuto le persone come te a costruire una relazione perfetta con il proprio amico a quattro zampe. Se ti trovi davanti a una situazione di pericolo dove un cane vuole attaccarti, ecco cosa non dovresti mai fare. Innanzitutto quello che non dovresti mai fare è scappare. Mettersi a correre nel momento in cui un cane sta mostrando segni di aggressività nei nostri confronti non fa altro che aumentare il sito creatore del cane e portarlo ancora di più in uno stato di aggressione che può conseguire poi ad un attacco. Un'altra cosa assolutamente sconsigliata nella situazione in cui un cane ci vuole attaccare è quella di metterci ad urlare e agitare le mani e il nostro corpo. Andando a mettere in atto questa tipologia di comportamento stiamo andando ad eccitare il cane ancora di più e anche questo potrebbe portare il cane non solo ad una semplice minaccia ma arrivare anche ad attaccarci. Quello che però possiamo fare per andare a placare questo tipo di situazione è muoverci lentamente. Dobbiamo andare a girare la schiena rispetto al cane che ci sta minacciando e allontanarci da lui il più lentamente possibile senza provare a toccarlo, senza provare a parlargli e senza fare assolutamente nulla. Ti aspetto nei commenti per sapere se conoscevi questa metodologia di approccio in situazioni di pericolo. Ricordi di seguirmi e di lasciarmi un like.